E' una donna di origini russe di 34 anni, la vittima dell'investimento mortale avvenuto alla stazione ferroviaria di Senigallia nella mattinata di oggi, venerdì 12 gennaio. Una donna che si sarebbe gettata volontariamente sui binari, stando alle prime informazioni, quando era in arrivo il treno Frecciarossa-Lecce-Milano-Centrale delle ore 11.37. Stando alle ricostruzioni della polizia ferroviaria e del personale di RFI, la vicenda che ha scosso la città di Senigallia si sarebbe consumata secondo un gesto volontario. Gli agenti hanno tentato di ricostruire i fatti, nonostante gli accertamenti non siano ancora terminati, hanno sentito anche alcune testimonianze dei passeggeri che erano presenti in stazione. Tra questi vi è un uomo che ha assistito alla drammatica scena, riferito di una telefonata dai toni accesi tra la vittima e un'altra persona, mentre si trovava nell'area nord della stazione, dove sono presenti un giardinetto e una fontanella. La donna, chiusa la telefonata, avrebbe quindi scelto di gettarsi contro il treno in transito. Nonostante il convoglio non viaggiasse a velocità elevatissime, l'impatto non le ha lasciato scampo ed è morta sul colpo. Una tragica scelta dunque, quella della persona che si è tolta la vita. Si tratta di una donna di origine russe, appunto residente a Marotta di Mondolfo. Secondo le informazioni delle forze dell'ordine, soffriva di crisi depressive ed era in cura al servizio di psichiatria. Nel frattempo, nel pomeriggio, è ripresa la circolazione dei treni, inizialmente sospesa per permettere i rilievi della polfer e le ispezioni dei vari vagoni. Importanti le ripercussioni alla mobilità ferroviaria, il frecciarossa coinvolto nell'episodio è stato fermo per oltre due ore, mentre i treni ad alta velocità hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 75 minuti. Alcuni treni intercity regionali hanno accumulato ritardi fino a un'ora e subito limitazioni di percorso o cancellazioni. Sono state attivate quindi corse sostitutive con gli autobus per i collegamenti regionali tra Rimini e Ancona e Pesaro e Ancona.